benvenuto nel mio canale allora oggi andremo a vedere un argomento molto tecnico però interessante parleremo praticamente delle problematiche principali di una cosa di avere una connessione internet in modalità adsl e vdsl allora iniziamo col dire che tutti sanno che questa tecnologia è una tecnologia vecchia sono state le prime connessioni a internet insomma oltre alla 56k che insomma non ne parliamo e praticamente l'evoluzione della connessione internet è stata queste due principali tipologie vabbè la adsl sappiamo tutti che cos'è la connessione internet è puramente rame cioè dalla centrale x dell'operatore dentro casa con il doppio di rame poi la vdsl la classica fibra fino all'armadio poi dall'armadio fino a casa abbiamo il rame allora molti utenti riscontrano delle problematiche di connessione per quanto riguarda queste tipologie di tipologie di tecnologia diciamo subito che le varie colpevoli tra virgolette di questo di questa problematica sono i fattori sono tantissimi le principali sono la velocità l'attuazione che praticamente io adesso mi sono fatto uno schermetto per farvi capire meglio e praticamente sarebbe l'attuazione dalla centrale fino a casa vostra lsnr che sarebbe il signal nostro ratio che praticamente è un valore che è più alto è e più voi riuscite a navigare meglio diciamo insieme a dire una cosa allora quando voi vi lamentate di una connessione internet di un operatore x e volete fare il passaggio la cosa che dovete capire è che prima di tutto bisogna andare a vedere che tipo di centrale avete cioè avete una centrale proprietaria dell'operatore o avete una centrale unica che poi l'operatore noleggia i dislam cioè le varie sezioni a x operatori in questo caso ultimo cioè se il vostro operatore che si è che state voi praticamente noleggia gli spazi dentro la centrale dell'operatore dovete capire che in qualsiasi operatore che voi andrete a cambiare la problematica rimarrà perché praticamente è proprio la centrale che ha questi problemi ok naturalmente se invece voi cambiate da un operatore a un altro sapete che quell'operatore che volete cambiare alla centrale propria siete più avvantaggiati ok detto questo adesso andiamo un attimo ad analizzare altri 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 meglio queste cose qua allora l'SNR abbiamo detto che è il signo a nostro ratio è più alto è meglio è perché riuscite a navigare più velocemente ma navigare velocemente non vuol dire fattore di qualità di una commissione a DSL VDSL perché c'è un altro fattore che ci viene a romperci le scatole che è praticamente il degradamento della linea del segnale che 99 per cento delle volte anzi il 100% delle volte è dovuto alla qualità dei cavi del classico doppino telefonico in rame o dai cavi in rame dalla centrale all'appartamento oppure proprio dentro l'appartamento i cavi in rame telefonici sono degradati ok allora come posso risolvere ora ti spiego come fare a risolvere allora naturalmente come ho detto prima la velocità si misura in varie sezioni qui ho fatto un piccolo eccolo qua praticamente qua per analizzare questo dato dobbiamo fare questa piccola equazione l'SNR fratto il rumore e questo qui sviluppa un valore nominato in decibel ok in decibel queste decibel in base alla tecnologia che noi abbiamo se abbiamo un FTTC dobbiamo stare sul range di 24 decibel da 24 decibel in su è migliore da sotto i 24 decibel e cominciamo ad avere dei problemi ok invece per quanto riguarda la DSL il minimo sindacale è 6 decibel di rumore e dai 10 in poi è ottimo allora cosa dovresti fare innanzitutto dovresti parlare col tuo operatore telefonico e vedere se abbassandoti la velocità di connessione tipo se hai una 20 mega abbassandoti tipo a 18 mega riescono a praticamente a bilanciare i due fattori che ti ho detto e praticamente aumentare l'SNR che sarebbe il segno del nostro radio in modo che hai un'esperienza di navigazione migliore intanto ti consiglio di fare questo per valutare questa cosa siccome che mentre il funzionamento di internet è che quando tu vai su un sito su un'immagine ti scarico un'immagine eccetera mentre questa immagine viene sgretolata inviata dal modem su internet e poi viene ricompattata allora la cosa migliore è che vabbè abbiamo detto è vedere quanti pacchetti noi stiamo perdendo l'ho già fatto vedere tempo fa se noi andiamo sul DOS e scriviamo cmd e scriviamo ping spazio e un sito che ne so www.google.it ora noi stiamo facendo un ping cioè un'analisi di invio dei pacchetti a un sito web e la restituzione ora i miei dati non hanno nessun valore a livello statistico perché io ho una FTTC e un FTTH io ho la fibra dentro casa perciò sono tutti altri valori tutte altre tecnologie tutte altre cose però se voi avete queste due la FTTC o la DSL vedete quanti pacchetti state perdendo e in questo caso parlate col vostro supporto tecnico e gli dite guardate io perdo X pacchetti se magari riuscite ad abbassarmi la velocità però io naturalmente guadagno di questo famosissimo valore che è importantissimo l'SNR in modo che io sì ho una velocità un po' più bassa però ho una qualità di navigazione migliore perché i pacchetti vengono tutti spediti inviati e riconsegnati praticamente in modo intero ok un'altra cosa che noterete sicuramente se avete problemi che ogni tanto il vostro modem si spegne e poi in automatica si riaccende nuovamente questo fattore è un classico fattore che dà la classica problematica di degrado della vostra linea perché perché il modem non ce la fa a inviare tutti i pacchetti che voi state richiedendo e in questo modo cosa fa si risetta si spegne e cerca di inviarti i pacchetti in un modo ottimale ok perciò voi se voi chiamate il vostro operatore e gli dite guardate io ho questo problematica qua ho 8 pacchetti persi mi potete abbassare la velocità per praticamente aumentare l'SNR ok tanto loro sanno che cos'è loro lo sanno in modo che praticamente sì è vero che invece di 20 naviga a 18 a 10 a 12 quanto sia però non perdi nessun pacchetto e l'esperienza di navigazione è migliore ok con questo autore è tutto spero di essere stato utile e piccolo e veloce non ne ho parlato molto approfonditimente perché magari sarebbe da parlarcene ore e ore però voi capite che poi diventerebbe noioso se hai delle domande da farmi mi puoi dire ovviamente quanto a mettere un commento sotto la